Mi ha abbandonata e avrei bisogno di lui ancora perché adesso dobbiamo fare qualcosa di classico della musica classica ovvero della musica colta, seria e adesso andremo ad ascoltare un brano appunto colto di Gioacchino Rossini, famoso anche per il barbiere di Siviglia, famoso per Guglielmo Tell Allala adesso questo è per te, ecco qua io ti aiuto, insomma abbiamo cantato di amore, amore, amore questo sentimento, anche gli altri esseri viventi tipo gli animali sentono questo appunto noi umani lo chiamiamo sentimento ma solo perché siamo umani, siamo colti, raffinati, classici e seri e invece, sì con la parola sentimento invece nascondiamo il vero senso dell'amore che è un istinto animale mi ha abbandonata mi ha abbandonata mi ha abbandonata Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Miau, miau, miau Miau, miau Miau, 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 miau Miau, miau Miau, miau 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 Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.